Ehi, bentornati cari, bentornati, siete sempre i benvenuti nel mio canale e questa sera farò dei trigger che vi aiuteranno a prendere sonno, trigger quasi di tutti i tipi, per tutti quelli che vogliono dormire, assolutamente di botto, senza perdere troppo tempo, pertanto andiamo con tutti questi trigger super intensi, ma anche super soft, intanto benvenuto e puoi supportare il mio canale, mentre ti stai godendo questo close up ASMR, dunque andiamo verso la strada dei triggers, iniziamo con qualcosa di molto intenso. Ticca 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 Grazie a tutti. 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 Questi trigger. Grazie a tutti. 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 Sempre a tutti. sempre a tutti. E' un'ultimo trigger. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. qualche trigger. super tech. anche a tutti. . normal Quanto è soft il tapping sul controller dell'APS5? Quanto è soft? Alla fine di tutto, questo è stato un video ASMR con tanti tanti trigger che servono proprio per far addormentare subito, ho cercato di concentrare la maggior parte dei trigger più intensi per dormire e alla fine vi ho lasciato con una piccola sorpresa come trigger, però come tutte le volte vi auguro la buonanotte e spero che riusciate a dormire alla grande con tutti i trigger che ho creato per voi, dunque ci si vede al prossimo video o alla prossima live, buonanotte cari, buonanotte, dormite bene e e passate sempre e soprattutto una bella giornata domani, buonanotte al prossimo video, buonanotte e ancora buonanotte, buonanotte a presto 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 a presto